Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Vi ricordo se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita Codice creatore XEmanuelle97 Detto ciò andiamo a vedere cosa c'è in questo shop odierno E' tornata Kira dal capitolo 2 stagione 4200 V-Pack Rara, fa parte del set Impatto Poi andiamo avanti e abbiamo Lame Bloccanti Del capitolo 2 stagione 4 500 V-Pack non comune Poi ragazzi andiamo avanti e abbiamo Aquila Verde come Deltaplano 800 V-Pack raro capitolo 2 stagione 4 Poi ragazzi andiamo avanti e tornate il Milite Giocattolo 800 V-Pack non comune della stagione 9 Fa parte del set Soldatino Andiamolo a vedere in tutti i suoi tre stili Devo dire che è molto molto bella Poi abbiamo il pattugliatore di plastica 800 V-Pack non comune 800 Della stagione 9 fa parte del set Soldatino Anche questo in più stili Poi ragazzi andiamo avanti in questo shop abbiamo come copertura Il giocattolo verde Il giocattolo grigio e plastica rossa 400 V-Pack non comune Poi abbiamo Ancora Kira e dopo abbiamo Dominio 1500 V-Pack Epico fa parte del capitolo 2 stagione 1 Set i Diabolici Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Bestia bruciante come Deltaplano Leggendario 1500 V-Pack del capitolo 2 stagione 1 Vi ricordo un bel like e una bella iscrizione ragazzi Poi abbiamo Malevolenza della stagione 8 Sempre del set i Diabolici 2000 V-Pack leggendaria Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Lame Infocate 800 V-Pack raro del capitolo 2 stagione 1 Poi abbiamo Ascia di Fuoco come Piccone 1200 V-Pack epico della stagione 8 Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Glifo Infuocato Questa copertura animata rara del capitolo 2 stagione 1 Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Shogun come skin leggendaria di 2000 V-Pack Della stagione 6 Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Masha Lama Stagione 6 800 V-Pack raro Sentiamo il sound ragazzi Poi ragazzi abbiamo Haim 2000 V-Pack leggendario Della stagione 5 Fa parte del set Bushido Vediamo i suoi tre stili di questa skin Leggendaria Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Artiglio del Gatto Stagione 5 800 V-Pack raro Vi ricordo un bel like costa Una bella iscrizione al canale Poi ragazzi andiamo avanti Abbiamo Accordo Potente Un'altra skin leggendaria Della stagione 10 Fa parte del set volume A11 Poi ragazzi andiamo avanti Abbiamo Lada 800 V-Pack Non comune Fa parte del set Tacomania Del capitolo 2 Stagione 3 Poi abbiamo Scanline 300 V-Pack Non comune Animato Della stagione 9 Poi abbiamo Movimenti Eleganti 800 V-Pack Epico Della stagione 6 Ragazzi Poi abbiamo Never Gone 500 V-Pack Raro Del capitolo 2 Stagione 1 Poi abbiamo Vieni qua Un'emota Accattivante 200 V-Pack Non comune Poi ragazzi andiamo avanti Abbiamo ancora i nostri Calciatori Ancora le emote Che già abbiamo visto ieri E ancora il pacchetto Della guerra del futuro E il pacchetto Delle leggende su cose Vi ricordo Se mi volete supportare In maniera Totalmente gratuita Codice creatore X Emanuele97 E noi come sempre Ci vediamo Ad un prossimo Video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi